Efraimo Brambi, la primo cittadino di Santa Maria Oe, letta ai pochi sindaci che hanno votato conto al progetto di aggregazione delle società del gas e dell'energia del nord della Lombardia nella nuova Maxi Multi Utility. Perché questa scelta? Perché si è andati fuori rispetto a quelli che erano gli obiettivi che erano inizialmente proposti, si è partiti sul valorizzare il settore del gas, si è finiti sul proporre questo tipo di multi utility che va oltre questo settore, si occupa di business a 360 gradi, si occupa di teleriscaldamento, di rifiuti, di idrico, di centrali elettriche e anche di farmacie. È stata proposta questa come unica soluzione possibile, è stato detto non ci sono altre soluzioni, invece a me sembra di capire che di soluzioni ce ne potevano essere anche altre, questa è l'unica soluzione che ci è stata proposta. È un progetto che prevede una schiera di componenti di A2A che sono 7 e poi dopo ci sono 5 componenti e solo 5 che sono tra virgolette di garanzia per gli enti locali. Questo consiglio di amministrazione a mio modo di vedere non permette di avere un serio controllo su questo tipo di società da parte degli enti locali. Poi bisogna anche capire chi è A2A, A2A è un colosso industriale, una società quotata che è aperto al mercato privato, quindi c'è da chiedersi, siamo sicuri che questa operazione non vada a dare un vantaggio ad A2A nel mercato? Poi ci sono anche altre società partecipate, ce n'è una ad esempio che pare che abbia un debito milionario, bisognerebbe capire anche su questo tema se questo debito venga trasferito nella nuova società. E se questo debito viene trasferito nella nuova società bisogna capire appunto chi lo paga. Così come sono le cose il 20% dovrebbe essere pagato dall'ario reti. Qui si parla di grandi dividendi da distribuire agli enti locali, però se ci dovessimo trovare in questa realtà bisogna capire che la situazione se così stanno le cose è completamente diversa. Quindi per concludere non credo che questa scelta vada a favore dei cittadini.